Chi è italiano? Il grande centrodestra italiano ha nella centralità della persona, nella sussidiaria, nei valori del popolarismo europeo, una bussola e un riferimento perché il nostro partito ha sempre avuto nella carta dei valori del Partito Popolare Europeo il proprio riferimento al punto che ne ha mutuato, grazie al lavoro del Presidente Berlusconi, i valori e financo le parole che coincidono esattamente con la carta dei valori del Partito Popolare Europeo. Questo non significa fare un unico partito di centrodestra, questo non significa fare piccoli partiti, significa fare il grande centrodestra italiano innovando in Italia e innovando in Europa.